ci manca un datapad e dov'era? un giorno, tre giorni, cinque giorni promuovi vai livello 9, yeah corazza un milione facciamo il coraggio facciamo precisione questo è il cecchino aggraggio, grazie redenzione no ma se va, togliamo il tratto negativo, senti? bene è affaticamento, anche questo è molto buono facciamo questo va al coraggio oh no che cacchio sta a fa' questo è No vabbè sti cacchio le scienziate No vabbè sti cacchio le scienziate C'è qualcosa che sta succedendo con il sistema di comm C'è l'ho? Chief Gargan, cosa sta succedendo con i comms? Non lo so, il ship sta trattando strano, i nostri bambini sono aperti Siamo invitati a tutti i criaturi al porto Siamo tornando in linea, Chief, abbiamo un squad di Harper in campo Siamo lavorando, ma potrei usare un paio di hands Perfetto perimetre off-line, perfetto perimetre off-line C'è qualcuno che sta succedendo con noi Haze in tutte le mani, i nostri plasmi turrisi sono fermati Martina, voglio una risposta, sembra che gli turrisi è tornato in linea Allora suona, imparare ora Cargan, sono arrivati a te, abbiamo bisogno delle comms externo Harper ha proprio perduto Becker, dog I don't have time for this Fudge What? What? No That thing can't get out Porca miseria ladra The decontamination procedure I have to launch it before it leaves Come on, come on Be advised Starting decontamination procedure Corgan Corgan Corgan, do you copy? Haze What is happening? There's a critter on the loose What? Where? In the lab I've managed to contain it But with all the marines deployed outside We can't be too cautious I need you to lock everyone in the armory now Will do How about you? Don't worry about me I have an idea If only I could grab those pheromones Becker was working on That might lead it into the containment cell Certo, mi pare proprio un'ottima idea Invece di scappare All right Let's put this in the cell now I I Am I really doing this? Travis said If I stay here I'm dead I Il pulsante è lì Maledizione Il pulsante è lì Maledizione Aspetta Prima di Di cantare vittoria Aspetta Il cacchio è sotto controllo No chiudi Porca Ma Ma Porca di quella Porca Ma Vaffanbe Ah Jesus Lewis Bene Già fatto Erano già tutti crepati Non so come ha fatto A creparle tutti Eccola là Eccola Matt Mamma mia che massacro Se prendo quel medico ti giuro Li passo sopra col carro nostro Anzi lo metto in mezzo ai due Carri Ma porca Ma forse Grazie a tutti. Mmmmm. Ma scusa. Così non me dovrebbe vedere perché cacchio me vede. Cacchio. 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 Molto bene. Cacchio. Cacchio. Fiore. Trovare. Ciò. E no. Come farsi crepare dall'alien? Ok. a dove sto io sempre che non ci prenda quello prima vai 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 schiaccialo ah bene dai dai parca miseria no ma ci abbiamo fatta? mazza che culo è rimasto sto buggato lì quel coso è rimasto è rimasto Ah! 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 Why? Why did you do it? I owe an immeasurable amount of money to the company. Price needed the data and the ship. Turns out I could provide her with both and erase my debt. Finally. What is so funny? Shit! Shit! Almost there. I can't hide forever. But if I shut the reactor down... It can be. I just need to vent this reactor. All right, Anna. Here. Why? Why can't you stand here at this side? Why? Why? What the fuck? It's true. By the way, Maiko. This is a terrible plan. How can I shut down? In progress. Attira la creatura nel nucleo energetico prima che si riattivi per ucciderla Tutto un cacchio Aaaaaaah Bowls Meglio non provocarla, tanto stavo andando da uno all'ora prima C'è la console C'è la console C'è la cosa, Maiko, questo è un progettivo Un progettivo di sequenza in progettivo F***, mi sono iniziato nel giro prima che la cosa arriva non avrà inseminato gli altri non avrà I'll do anything for a rematch. You have my word. The word of a Weyland-Yutani employee. And a professional killer at that. Yeah, what's the difference with that sergeant of yours? Do not bring Harper into this. I'm sorry. How's he doing? Not great. I have to check with Book... I mean, in the medbay. You know what? Go see him. But remember, you want to bring Price down? I can help you get into Feral Spire. It's got to be worth a try. Price is our only link to Cassandra, to the real Marlow. But if you try anything, you go down with her. I'll keep that in mind, ma'am. Hello, Administrator Hayes. Okay. Have a nice day. How's he doing? We managed to stabilize him. But without Bookard, I'm not sure for how long. Maybe we should just put him in cryosleep already and get the hell out of here. Not until I get Cassandra from Marlow. Harper needs his daughter. Do you really think she's out there? Is she even alive? She is. I'll find her. Stern offered his... help. That mercenary? Can we trust him? Seems that Price knows where Cassandra is. And I don't see how we could get into Feral Spire without him. Not much of a choice, huh? I hate to say it, but you're getting better at this. Corrigan told me how you handled the critter. Ballsy move. I did what I had to do. Administrator Hayes? Are you up to going after Price? What if I'm not? Don't worry. I'll be in the APC, keeping an eye on Stern. All right, then let's do this. For Harper. Yes. For Harper. See you around. I heard what happened. What a tragedy. Anyway, how can I help? Understood. We'll do our research. Quanto stiamo in invasione? Possiamo portarla a livello 3? Vediamo. Sì, quasi. Sì, quasi. Vai. Ok, basta, perché sennò... Bene, mamma mia, come stanno peggiorando le cose, eh. Veramente a vista d'occhio, proprio a vista d'occhio. Casino infinito. Non ho idea di come ce ne andremo adesso. Anche perché l'Otago ha preso un'altra sberla che proprio non gli serviva. Il dottore è morto. Il medico e lo scienziato è morto. Harper sta malissimo. E vai! Comunque, fatemi sapere le vostre d'impressione. Ricordate che qui sotto potete lasciare un commento, mettere like al video e iscrivervi al canale. Come sempre, io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!